Ciao a tutti, ecco le novità della settimana Kit statico in scala 1-24 Italieri Mercedes-Benz Actros MP4 Revelle, kit statico in scala 1-24 Chevy del 56 Kit in scatola 1-32 del Bombardiere B58 Astler Kit statico in scala 1-35 del Cararmato Russo T90 Fujimi, kit in scala 1-24 della Ferrari Dino 246 GT In occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci Revelle ha lanciato una linea di kit statici dedicati ai più famosi progetti del grande Leonardo Nella Corgi, il mitico camper della Volkswagen in scala 1-43 Knock, personaggi in kayak in scala N Accessori per stazione in scala H0 Tre coppie di innamorati, sempre in scala H0 Radio control, automodello elettrico in scala 1-10 Quattro ruote motrici waterproof con motore brushed e batteria nickel metallidrato Velocità stimata oltre 60 km orari Pensi che ringanio oltre 60 décrizioni delle tante Mai 0-10 V propon 1-20 Quattro ruote un surfonse